Per essere onesto è una grande squadra, ricordo l'anno scorso che abbiamo iniziato contro la Juve e questa nella Roma, quindi bene così iniziamo subito il campionato forte e sarà importante iniziare bene. Poi comunque le avversarie sul cammino nelle prime dieci, c'è il Milan, c'è la Frentina, Lazio, Juve, ci sono tante formazioni di fascia medio alta nella prima parte del campionato, però l'Udinese ci vuole arrivare pronta. Sì sicuramente e poi dobbiamo giocare contro tutte, quindi alla fine cambia poco, dobbiamo iniziare bene, prepararsi bene anche con la Coppa e poi fare il nostro cammino. Magari se guardiamo invece il campionato, almeno per quello che è stato tracciato adesso, le gare in casa sembrano essere un pochettino quelle più alla nostra portata, c'è l'obiettivo magari di conquistare subito 6-9 punti in casa per scaldare subito la piazza vista anche la scorsa stagione che non è andata come ci aspettavamo. Questo sicuramente, questa no vogliamo veramente fare bene a casa, prendere il massimo di punti perché sicuramente questo ci aiuta per il campionato, quindi sarebbe importante che a Udinese a casa facciamo sempre tre punti, sarebbe l'ideare.